Non si fermano le ricerche fra i detriti lasciati dalla devastante esplosione che ha distrutto un'intera palazzina in una frazione di Arnasco, nel Savonese. Si continua a scavare e a indagare con l'impiego quest'oggi anche di unità cinofile, utili a tracciare l'eventuale presenza di altre persone coinvolte nella tragedia che ha scolvolto il tranquillo paese fra gli olivi. Ed è stato proprio un cane dei soccorsi a subire un incidente durante le operazioni, con un conseguente ricovero per una ferita riportata fra le macerie. Quelle stesse, che invadendo anche le vie circostanti, hanno costretto ad un estenuante lavoro di sgombero nella notte. Intanto si indaga sulle cause dello scoppio, ipotizzando una fuga di gas, mentre restano da verificare le staticità e le sicurezze delle dimore limitrofe interessate dall'evento. Stanno andando avanti a ritmo piuttosto elevato. Io confido che entro domani siano stati rimossi tutti. Verosimilmente lavoreranno di nuovo senza sosta, anche di notte. Quindi entro domani questa operazione dovrebbe essere completata. E poi successivamente, anche se hanno già ricominciato anche adesso, a rifare un'indagine, un'analisi sulla staticità delle case circostanti. Poi vedremo le comunicazioni che i vigili ci faranno. Stanno procedendo le operazioni di ricerca e smassamento delle macerie. Grazie al cielo al momento non abbiamo trovato nessuno, quindi si sta confermando che la presenza di persone complessivamente non stabili fosse di 6 unità. Potremo avere la certezza che effettivamente il numero sia questo quando avremo concluso definitivamente lo smassamento, presumibilmente entro le prossime 24 ore. La notte come avete passato? La notte l'abbiamo passata come giorno a lavorare. Le operazioni sono proseguite ininterrottamente. I cantiere comunque sono stati strutturati in modo tale che quindi abbiamo ottimizzato le risorse sul campo. Infatti anche la previsione è stata ridotta dalle 48 ore alle 24 ore. Quanti uomini e i mezzi impegnati in questa operazione? Circa abbiamo dalle 20 alle 25 unità con 10 mezzi complessivamente utilizzati. C'è personale anche del comando di Imperia e personale del comando di Genova che sono intervenuti con mezzi speciali per poter fare ovviamente le operazioni di smassamento. Quindi ci sono molte parti instabili. Ovviamente si opera sempre con tutti i dispositivi di protezione individuale necessari in questi casi e le cautele che consentono di operare comunque con un margine di sicurezza accettabile. Ma per quanto riguarda il ripristino dell'erogazione del gas, spero che a quest'ora, io adesso sono stato qua in questa zona quindi non sono più su da circa un'ora e mezza, spero che l'abbiano ripristinato o che stiano finendo di ripristinarlo. C'è stato un problema perché sono venuti i tecnici della dita Badano per ripristinare la conduttura del vicolo interessato, però su questo tratto era anche il tratto di tubazione che era in qualche modo sotto sequestro e quindi i vigili hanno preteso che non fossero alterate la situazione attuale delle tubature. Si è arrivati a una soluzione di compromesso facendo un bypass che non toccasse queste tubature e su questo poi c'era anche l'accordo del magistrato da quello che mi hanno detto i vigili e quindi i tecnici hanno operato in questo senso. Ora non sono sicurissimo che abbiano terminato ma sicuramente se non hanno terminato stanno per terminarlo e quindi questa sera queste famiglie che erano ancora tagliate fuori dalla fornitura del gas l'avranno ripristinata e quindi potranno cucinare, riscaldarsi e lavarsi e quindi tornare a una qualche normalità per queste famiglie.